Apre per Tilemans, prova da lontano, ha cercato il gol qui da distanza impossibile. Per fare gol da lì devi sperare che il portiere svenga, oltre chiaramente a centrare la porta. Si accentra. Che tuffo nel portiere. A metri per Tilemans sulla corsia. Lascia partire il tiro. 1-0. Arrivederci. 1-0. Attenzione. Portiere che si salva in tuffo. Intervento più difficile di quello che sembra. Campo per lui. Attento il portiere, non è finita. Intercetta. Intercetta la tra... C'è campo per lui. la mette dietro. Palla che finisce di un soffio al lato. Ha fatto il massimo da quella distanza. È anche difficile chiedere di più. Ebischer. La mette dietro. Palla che finisce di un soffio al lato. Ha fatto il massimo da quella distanza. È anche difficile chiedere di più. Il nostro coradino è un soffio al lato. Il nostro corso al lato. Grazie.